In questi giorni ho ricevuto tantissimi email di persone che mi chiedevano informazioni su varie diete, vari trends che stanno più o meno spopolando in questi ultimi mesi, direi, ultimi anni in Italia. Siccome non ho il tempo di rispondere ad ognuno singolarmente, ho deciso fondamentalmente di raccontarvi il mio punto di vista. Quindi premetto che questo è il mio punto di vista su queste tematiche. La domanda più frequente è cosa ne penso del digiuno prolungato, della dieta a meno digiuno. Il mio pensiero è fondamentalmente che i dati sperimentali nell'animale sono molto interessanti, ma che i dati nell'uomo non ci sono. Sono troppo preliminari e è assolutamente necessario fare degli studi ben fatti, seri, da diversi gruppi indipendenti, quindi non da un unico gruppo che potrebbe avere conflitti di interesse, ma da diversi gruppi indipendenti. Questo è il metodo scientifico. Diversi gruppi di ricerca confermano la bontà dei dati sperimentali sul modello animale, facendo degli studi clinici randomizzati ben condotti nell'uomo. Fintanto che non abbiamo questi dati, assolutamente non mi sento di esprimere un giudizio, di raccomandare nessun tipo di dieta, né questa né un'altra. L'altra cosa che mi sento di dire è che il digiuno è gratis. E quindi fondamentalmente se e quando dimostreremo che è un digiuno prolungato, quindi 5, 6, 7 giorni, che in linea di principio potrebbe avere un senso? Pensiamo, cioè quando nel modello sperimentale attiviamo col digiuno queste vie di segnale, questa FOXO pathway, questo gene, questo transcriptional factor che praticamente si lega sul DNA, quello che facciamo è attiviamo diverse pathways, come ho spiegato nel libro. Uno è l'autofagia, cioè la cellula percepisce che non c'è abbastanza nutrimento all'interno della cellula, quindi cosa fa? Inizia a digerire parte dei componenti del citoplasma, della cellula, per produrre energia, per produrre ATP. Sembrerebbe che le cellule siano molto intelligenti, che questa autofagia non è random, praticamente va a colpire in prima istanza gli organelli invecchiati, disfunzionanti, e gli accumuli di sostanze tossiche all'interno della cellula, cioè di proteine che non funzionano più, che sono tossiche, o di amiloide, di altre sostanze che si accumulano col tempo. L'altra cosa che fa questa attivazione di FOXO è attivare i geni del riparo al DNA, pathways antiossidanti, geni antiossidanti come il SOD2, la catalasi, inibisce la proliferazione cellulare, insomma fa tante cose che in linea di principio potrebbero essere interessanti, però nell'uomo non lo sappiamo, se ci possono essere gli effetti collatoriali, quanto digiuno bisogna fare, quante volte all'anno, o quante volte ogni tot anni. Potrebbe essere che se uno segue uno stile di vita come quello che abbiamo consigliato, in cui mangia la giusta quantità di calorie, di proteine, di nutrienti, fa attività fisica, fa meditazione, è possibile che magari una volta, ogni due anni, ogni cinque anni, questo lo studieremo, fare una settimana, cinque giorni di digiuno, possa aiutare l'organismo a ripulirsi. In questo momento non lo sappiamo, quindi seriamente io non mi sento di consigliare a nessuno qualcosa di cui non ho la certezza che non abbia effetti collaterali. Un altro problema, non indifferente, un sacco di colleghi mi hanno scritto, mi hanno detto, oncologi, che sono veramente arrabbiati, perché hanno un sacco di pazienti col cancro, che si rivolgono a loro e gli chiedono fondamentalmente di fare, di prescrivergli questo digiuno prolungato. Io sono un medico e quindi mi rendo conto che la situazione in cui questi colleghi oncologi vengono, la pressione a cui vengono sottoposti è scorretta. Giustamente loro mi dicono, ammettiamo anche che funzioni nel topolino e che funzioni nell'uomo, ma fin tanto che non c'è uno studio clinico, non uno, più studi clinici che comprovano l'efficacia, che ci sia un consensus, se io prescrivo questo digiuno in associazione alla chemioterapia e poi un paziente muore o ha delle complicanze gravi, i parenti o lui stesso potrebbero denunciarmi e sicuramente un giudice mi incolperebbe e io dovrei pagare, magari civilmente o penalmente, per qualcosa che mi è stato imposto ma che non è stato convalidato scientificamente nell'uomo. Quindi è una situazione molto delicata, difficile. Da una parte c'è la scienza che spinge, dall'altra parte però abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre fatto con qualsiasi tipo di farmaco, con qualsiasi tipo di intervento, fin tanto che gli studi clinici non sono seri e comprovati, un medico non può prescrivere, è un motivo, è una motivazione deontologica. Ok? Quindi insomma, su questo, questo è il mio punto di vista su questa tematica. L'altra tematica, l'altra domanda che mi viene fatta ultimamente spesso è la seguente. Ma è vero che esistono dei cibi funzionali, dei supplementi o dei cibi che contengono delle molecole smart in grado di rallentare i processi di invecchiamento? È vero che se io consumo questi cibi non invecchio più lentamente? Allora, la risposta a questa domanda è non è vero. Cioè, non c'è nessuna evidenza scientifica seria degli studi fatti bene che dimostrino questo fatto. Ci sono degli studi cellulari, qualche studi sul topolino, ma sono dati veramente per ora deboli che non hanno una solità scientifica tale da poter dire alle persone guarda che se ti mangi questi cibi o prendi questo supplemento di resveratrolo di quercitina di qualsiasi sostanza o mangi questo cibo mangi queste bacche mangi la cioccolata le fragole la mela che sono ricche di quercitina questo e quest'altro allora non rallenterai rallenti i processi di invecchiamento. Non c'è evidenza scientifica quindi dirlo secondo me è scorretto. Tant'è vero che molti studi che nei modelli animali prendiamo il resveratrolo nel modello animale nature rallenta l'invecchiamento i topolini corrono più a lungo c'è un aumento dei mitocondri sparisce l'epatopatia da fegato grasso degli effetti miracolosi quando poi purtroppo la Glaxo ha comprato questa compagnia pagandola un sacco di soldi e ha iniziato a fare gli studi nessun effetto noi stessi il nostro gruppo e altri gruppi indipendenti in Svezia e negli Stati Uniti hanno fatto gli studi sul resveratrolo dell'uomo studi fatti bene in doppio cieco randomizzato e non vediamo niente nessuna modificazione di un singolo gene o una modificazione dell'insunosensibilità di nulla non succede nulla quindi le persone hanno preso questo resveratrolo era stato pulicizzato come una sostanza miracolosa con nessun effetto altri studi fatti sulla vitamina C la supplementazione con vitamina C vitamina E petacarotene che nel modello animale cellulare hanno dimostrato degli effetti spettacolari anche questi quando abbiamo fatto i grossi studi randomizzati clinici in doppio cieco su 3.000 4.000 5.000 persone non abbiamo visto niente anzi in alcuni casi abbiamo visto un'aumentata mortalità per cancro per esempio il betacarotene dei fumatori aumenta il rischio di cancro di queste cose ne abbiamo parlato nel libro però è meglio ripeterle visto che le domande continuano a fioccare quindi se mi vengono fatte delle domande mi sembra giusto che io risponda dando il mio punto di vista chiaramente ognuno ha il suo punto di vista e ogni persona deve trovarsi come se io dovesse aver bisogno di un ingegnere per costruire la mia casa voglio costruire una casa ecosostenibile in classe A devo andare in giro vedere i vari ingegneri le varie ditte e trovare quella che io ritengo essere la più seria la più attendibile e così funziona per tutto nella vita purtroppo con internet abbiamo a disposizione miliardi di informazioni è il vero problema di trovare delle informazioni serie valide a cui possiamo credere un'altra domanda a cui che mi sta posta riprendutamente da più persone è il discorso delle diete iperproteiche ma è vero che fanno bene oppure che fanno male però io perdo peso allora la risposta a questa domanda è chiara perché comunque gli studi li abbiamo fatti le persone che seguono una dieta iperproteica hanno un leggero beneficio un maggiore beneficio rispetto a quelle che fanno una dieta a basso contenuto di grassi low fat diet nei primi 3-4 mesi già a 6 mesi a un anno non c'è nessuna differenza questi sono studi randomizzati fatti molto molto bene con tantissimi pazienti multicentrici quindi vantaggio minuscolo significativo nei primi mesi già a 6 mesi un anno non c'è nessuna differenza il problema è che quello che abbiamo scoperto recentemente facendo gli studi sull'uomo fatti molto bene che le persone che perdono peso con queste diete iperproteiche non solo hanno dei danni a livello renale ma hanno non hanno nessun miglioramento metabolico tipicamente quando perdiamo peso con l'attività fisica con una dieta bilanciata ipocalorica c'è un miglioramento dell'insulino sensibilità cioè diventiamo meno diabetici meno prepensità al diabete quello che vediamo è che queste persone che perdono peso con queste diete iperproteiche che non hanno nessun miglioramento dell'insulino sensibilità che è tra il resto una patria importantissima che stiamo studiando perché pensiamo che sia implicata nell'invecchiamento e nello sviluppo del cancro quindi mi sento di dire in questo caso con forza che le diete iperproteiche non fanno bene e invece abbiamo spiegato chiaramente cosa bisogna fare nel libro se vogliamo avere un'alimentazione sana poi ne parleremo di questo argomento perché non siamo tutti uguali poi farò un inciso fra poco però in linea di massima ho detto delle regole generali che in linea di massima vanno bene per tutti ma poi devono essere personalizzate ultimo ultima domanda che sto ricevendo è il discorso di alcune affermazioni che vengono fatte sulla presunta velenosità di alcuni cibi è stato chiesto da un sacco di persone di amici ma è vero che le farine 00 sono velenose ma tu cosa ne pensi è vero che i latticini sono velenosi beh è chiaro che questa è un'estrema estremizzazione non c'è nessun cibo velenoso di quelli che consumiamo quotidianamente è chiaro che se io mi mangio vado a raccogliere dei funghi velenosi e mi mangio un pezzettino di amannita falloide quello è velenoso è chiaro che se io consumo dei cibi coltivati in un tireno pesantemente inquinato da metalli pesanti e altre sostanze cancerogene quello è velenoso però consumare in maniera saltuaria della farina 00 non è velenoso quindi non creiamo allarmismi inutili il concetto è che bisogna mangiare la giusta quantità di calorie personalizzata per quello che fa bisogno di ogni singola persona né più né meno di quello che serve lo stesso vale per le proteine dobbiamo mantenere l'addome piatto quindi dobbiamo consumare il giusto apporto di calorie che ci fanno mantenere l'addome piatto questa è la regola per ora che abbiamo non avendo ancora un marcatore questa è la regola dobbiamo cercare di ridurre la circolazione da vita e avere un addome piatto e quindi bisogna mangiare il giusto apporto di calorie per fare questo naturalmente per non andare in malnutrizione dobbiamo scegliere dei cibi ed escluderne altri escludersi in via che questi altri cibi devono essere consumati in maniera saltuaria quindi se succede ogni tanto di mangiare un dolce non c'è nessun problema godiamocelo se andiamo in una festa di compleanno l'importante è che non ci siano i dolci a casa che i nostri bambini e noi non abbiamo a disposizione tutti i giorni dolci nei nostri cassetti della cucina uguale è chiaro che le farine 00 sono hanno un alto idice glicemico e quindi tendono a causare delle alterazioni metaboliche dell'insulina che non sono non sono ottimali e poi fondamentalmente come abbiamo spiegato le farine 00 hanno perso un sacco di nutrienti importanti che ci sono nel germe soprattutto ma anche nella crusca che hanno degli effetti specifici sul cat microbiota e altre cose quindi insomma è più complesso quindi voglio precisare non esistono cibi velenosi perlomeno quelli che consumiamo tutti i giorni però chiaramente dovete dobbiamo non dovete dobbiamo consumarli questi cibi proteine animale farine raffinate zucchero bianco in maniera saltuaria dobbiamo imparare invece ad usare questi cibi di origine vegetale ricchi di fitocomposti vitamine sali minerali e dobbiamo diversificare il più possibile quindi questo è il messaggio senza allarmismi e più o meno queste insomma sono le risposte ad alcune delle più frequenti domande che ho ricevuto in questi giorni veramente tante e ripeto non potevo rispondere singolarmente ad ognuno e mi scuso e spero che questo video sia sufficiente a chiarire il mio punto di vista il mio punto di vista l'altra cosa però che volevo dire fondamentalmente che questi questi slogan diete per proteiche gli smart food i cibi velenosi la dieta del digiuno della longevità naturalmente creano confusione creano confusione polarizzano l'attenzione su un unico su un unico aspetto sono chiaramente degli slogan commerciali che però purtroppo polarizzano e creano confusione e che quindi fanno il gioco dei vari interessi finanziari e commerciali ed è per questo insomma che ho cercato nel libro La Grande Via di sintetizzare in maniera chiara spero di esserci riuscito una visione un pochettino più complessa della realtà ho cercato di far capire che ci sono diversi tasselli perché in passato ho visto libri buoni scritti solo sulla dieta dei libri scritti soltanto sull'attività fisica sulla corsa come sulle varie pesi la pesistica il body building dei libri scritti soltanto su una tematica lo yoga la meditazione parlano prevalentemente di un argomento quello che ho cercato di fare per la prima volta in questo libro è invece di far capire che la realtà è complessa che ci sono tanti tasselli che messi insieme collaborano contribuiscono a produrre salute longevità sviluppo psicologico interiore sviluppare le nostre capacità creative emotive intuitive in ultima analisi felicità questo è un messaggio direi nuovo messaggio complesso articolato che mette nella giusta proporzione ognuno di questi aspetti non c'è un'ipertrofia cioè la nutrizione è importante ma è soltanto ripeto uno dei tasselli spesso si parla solo di nutrizione non si parla solo di attività fisica invece tutti insieme collaborano per fornire il risultato che è quello di una vita sana felice lunga e longeva e infatti nel libro ho voluto sottolineare che non esistono scorciatoie questo è uno dei messaggi più chiari penso perché quello che ho raccontato nel libro sono le mie esperienze i miei 30 anni di studi medici di studi da scienziato ho cercato di raccontare non solo i miei studi ma anche quelli di altri colleghi che stimo che amiro che ritengono che ritengo essere sulla giusta strada e poi ho raccontato una parte personale molto personale mi sentivo di farlo perché altrimenti il messaggio era troppo limitato se avessi parlato soltanto di nutrizione e di attività fisica ho parlato della componente meditativa filosofica spirituale della vita che è importantissima poi magari ne parleremo un'altra volta di quali sono le implicazioni non soltanto per lo sviluppo spirituale individuale della persona ma anche le implicazioni che questo ha sul nostro successo lavorativo quello che siamo quello che siamo dentro influenza la nostra relazione con gli altri quindi come noi riusciamo ad essere incisivi e avere successo in quello che facciamo nella vita e nel nostro lavoro però questa è una tematica complessa di cui magari parleremo più avanti se avrò tempo e la cosa fondamentalmente che ci tengo a dire è che non esistono scorciatoie che il percorso che porta alla salute alla longevità e alla felicità è un percorso difficile lungo è una ricerca che dura un'intera vita non è un qualcosetta che si può imparare così come a volte rimango stupito quando perché è come se qualcuno vi dicesse che allenandosi un paio di volte al mese ritiene di poter andare a prepararsi per competere alle olimpiadi oppure come se qualcuno mi dicesse che strimpellando il pianoforte mezz'ora una volta a settimana si sta preparando per vincere il premio Chopin la competizione internazionale per i migliori pianisti in onore di Chopin e mille altri esempi insomma è chiaro che una cosa così complessa come la salute e la longevità richiede un impegno la disciplina conoscenza provare sbagliare progredire e richiede anche una forza di volontà e quindi insomma riflettiamo riflettiamo su queste cose e spero che il libro sia fonte di riflessione l'ultima cosa di cui volevo parlarvi in questo video tornando sempre al discorso della delle domande che mi sono state poste è quello sul fatto che non siamo tutti uguali e che quindi se in principio anche le cose che hanno scritto nel libro possono essere la base di un cambiamento dello stile di vita poi naturalmente questo deve essere personalizzato faccio un esempio in questi giorni stiamo analizzando i dati di uno studio sul digiuno che abbiamo condotto negli ultimi due anni in questo studio abbiamo randomizzato delle persone al digiuno o al gruppo di intervento di controllo le persone che venivano scelte per fare il digiuno random devono fare un digiuno di a base di vegetali quindi non di solo acqua 24 ore due o tre volte alla settimana due o tre volte giorni non consecutivi potremmo mangiare per due cotte crude a volontà condite con un cucchiaio di oliva e basta e gli altri giorni però potevano mangiare quello che volevano in questa maniera non dovranno contare le calorie allora cosa abbiamo visto veniamo al punto abbiamo visto che una parte di queste persone hanno perso parecchio peso alcune addirittura hanno perso 20 kg in 6 mesi digiunando due o tre volte a settimana fantastico un altro gruppo invece ha perso poco peso ma un altro ancora e questo è stato veramente interessante pur avendo perso peso non ha avuto un miglioramento del profilo metabolico anzi ha avuto un leggero peggioramento stiamo ancora cercando di capire stiamo ancora analizzando i dati per capire qual è il fattore che in queste persone ha fatto sì che pur perdendo peso non c'è stato un miglioramento del profilo metabolico ma anzi un lieve peggioramento non sappiamo ancora quindi non ho ancora una risposta però il messaggio che volevo darvi è questo che non siamo tutti uguali che quindi dobbiamo personalizzare gli interventi e capire qual è la nostra reazione del nostro organismo però degli interventi seri che abbia un substrato scientifico è chiaro è difficile fare questo probabilmente bisogna farsi seguire da medici e ripeto da dei medici che abbiano una profonda conoscenza del metabolismo delle patologie di come funziona l'organismo dal punto di vista clinico che però siano anche preparati in questo tema che siano capaci di capire che conoscano bene la nutrizione con la N maiuscola che conoscano meccanismi delle patologie soprattutto dell'invecchiamento della salute cioè quali sono i fattori che servono per mantenere un corpo in salute per prevenire le patologie e questo è un problema perché ce ne sono veramente pochi in giro per il mondo e bisognerebbe informare c'è una grossa necessità di questi tipi di professionisti di questi tipi di medici che in collaborazione con nutrizionisti dietisti personal trainers specializzati in attività fisica psicologi esperti di yoga crei una comunità che possa distribuire questa informazione e personalizzare gli interventi in base al profilo metabolico genetico di ogni singola persona perché ripeto le informazioni che mi ha dato nel libro sono una base lo zoccolo che in via di massima va bene quasi a tutti però poi siccome ognuno è diverso ci dovremmo personalizzare l'altra parte dell'intervento per renderlo più efficace per evitare che ci siano invece dei potenziali problemi perché magari stiamo esagerando con la retezione calorica o stiamo tanto più calorie o proteine di quelle che servono e tanti mille altri esempi di cui insomma non ho il tempo di parlare in questa presentazione quindi insomma mi sento di concludere questo piccolo video dicendo che servono più studi però nel frattempo perché le persone non è che possono aspettare quello che abbiamo fornito nel libro è il risultato di tanti anni di studio serio di una ricerca personale individuale ed è veramente in tutta onestà il messaggio che potrei sintetizzare e regalare a mia sorella a mio figlio cioè quello che quello che ho scritto in questo libro è fondamentalmente il risultato la sintesi delle conoscenze che ho acquisito negli ultimi trent'anni che ho pensato fosse giusto a questo punto della mia carriera cercare di mettere su carta sintetizzare come primo libro poi naturalmente da qui ci sono altri concetti ognuna di queste tematiche può essere espansa moltissimo ognuno di questi temi però in questo libro non mi sentivo di espandere in maniera eccessiva una parte a favore dell'altra perché non era corretto non era bilanciato e quindi ho cercato di mantenere un equilibrio tra le diverse componenti per dare una visione equilibrata armonica della della complessità ma anche della bellezza di queste tematiche che sono così centrali per la salute e la vita di ogni essere umano e soprattutto per la salute dell'ambiente salve a tutti